Il Comune di Pesero decide di stanziare 250.000 euro del fondo anticrisi sull'emergenza casa e, nello specifico, sull'aiuto al pagamento degli affitti in favore di 730 famiglie pesaresi in difficoltà. Questa è la decisione annunciata oggi dal sindaco Matteo Ricci e dagli assessori di riferimento Pandolfi e Nobili alla luce di un'emergenza crescente ulteriormente mutilata dagli aiuti governativi che hanno tagliato il fondo sul caro affitti all'interno della legge di bilancio 2023. Risorse anticrisi comunali che un anno fa andarono al caro Bolletti e al sostegno all'Atari ora prendono dunque un'altra strada. Le risorse le prendiamo dal fondo anticrisi che è un fondo che ogni anno mette a disposizione il Comune e che si confronta poi con i sindacati per vedere quella che è anche l'emergenza e il bisogno di ogni anno. Oggi abbiamo deciso di metterla nella casa perché la casa è un'emergenza ma anche perché ci troviamo che quest'anno le risorse del fondo affitto nazionale che venivano regate tutti gli anni e si aggiravano intorno ai 570 mila euro non saranno riconfermati quindi sono 1100 persone e famiglie che avranno bisogno di un sostegno. Quindi nel nostro piccolo oggi investiamo lì, avevamo già in programma di investire nell'Atari ma l'emergenza oggi è la casa. Il Comune ha fatto come sempre la valutazione e mentre l'anno scorso abbiamo messo risorse importanti per fare fronte alle esigenze legate alle bollette e quindi pagare e contribuire pagando tre rate dell'Atari dei cittadini pesaresi con 470 mila euro quest'anno i 250 mila li abbiamo messi per dare risposta alle famiglie legate agli affitti. L'anno scorso erano 1100 famiglie perché il fondo aveva cifre importanti noi con i 250 mila euro arriveremo a stimata a 730 famiglie dove il contributo che daremo è massimo di 350 euro ed è proporzionale anche all'affitto che la famiglia deve sopportare e pagare quindi massimo 350 e la stima è 730 persone alle quali daremo una risposta. Fondo Anticrisi che si accoda ad una molteplicità di azioni già intraprese sull'emergenza casa. Sono già quasi 140 persone che sosteniamo con 66 mila euro che abbiamo erogato da gennaio questa è un'operazione che tende ad evitare che le persone siano le famiglie sfrattate e quindi si trovino improvvisamente per strada c'è anche un'operazione che rinnoviamo tutti gli anni come il canone concordato che dà agevolazioni ai privati che affittano perché c'è una riduzione del limo dal 10 e 6 credo di ricordare al 525 e blocca il canone per chi deve pagare quindi è un'operazione molto importante che risponde intorno a 1000-1100 canoni vengono fatti come canone concordato e sono il 90% di tutta l'attività degli affitti del mondo del privato. Il bando del fondo affitti uscirà a metà luglio e sarà pubblicato sul sito del comune di Pesero. Potranno accedervi chi ha un ISEE non superiore all'importo dell'assegno sociale anno 2023 pari a 6.542 euro. Nel frattempo si rinuncia ora al sostegno al pagamento della Tari con l'impegno però di destinarvi risorse successivamente. L'intenzione mia e del sindaco, visto che io l'avevo già detto che era mia intenzione mettere queste risorse del fondo anticrisi per la Tari ma ci sono state altre necessità, l'impegno è quello di lavorare sul bilancio di previsione che andremo ad adottare entro fine anno per mettere risorse nell'anno nuovo mentre già ben definite con una cifra e una destinazione ben precisa che dovrà essere la Tari.